Sbaglia il 5, Lupetto arretrati, ne va da B o Oblivion, che non è a rete. Emerge May Lady Garra, lungo Ibirilli, rientra Golfinger OM. Poi Naif Bip la squalifica per Lupetto. Si distende May Lady Garra, che prende netto margine di vantaggio all'imbocco della prima curva. Veloce lo strappo in 13 e 7. May Lady Garra che ora prova a riprendere in mano. Problemi anche per Oblivion, che si getta di galoppo. Dopo 400 metri in 29.3 allargo Magritte Dra, che sopravanza Naif Bip. Non perde tempo Newton Rock, che sposta in terza corsia. Va in aggiramento su Magritte Dra. May Lady Garra però allunga 44.2 i primi 600 metri. Con Laliderra che mantiene buona andatura. I cavalli affrontano la seconda curva. Newton Rock sopravanza Golfinger OM. Poi Naif Bip terzo di dentro per linee esterne. Magritte Dra. Lof TR 59.6 il mezzo miglio iniziale. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo. Viene dura chi naviga a largo. Ma non Newton Rock, che sembra partire al chilometro. In 15.1. Mette mezza lunghezza avanti a May Lady Garra. Si libera però Golfinger OM. Poi Naif Bip e Ninfa De Chiari. Allargo ancora Magritte Dra. Insegue One Way Lulu quando si va all'imbocco della curva conclusiva. Il paletto di linee. Quattordici e sette. Uno ventinove, otto mille e due. Golfinger OM si profila al fianco di Newton Rock. Scompare Male di Garra sostituita da Naif Bip. Gli altri che inseguono con Magritte Dra. Ninfa De Chiari. Si entra addirittura Newton Rock e Golfinger OM. In dibattito aperto. Naif Bip che si unisce la lotta. Tre in linea per il successo. Poi Naif Bip con le battute migliori. Prende nettamente la meglio. Vince su Newton Rock. Che sul traguardo è avvicinato da Golfinger OM. Poi Magritte Dra. Più indietro l'off-tr. Due minuti abbondanti. Trenta e sette la chiusa. Uno quindice a tre. La media al chilometro. Alla fine a sorpresa. Ma con merito Naif Bip. Con Federico Marangi. Quarantatré e diciotto. Al totalizzatore nazionale. Rimane a guardare. Sino all'ingresso in dibattura. Poi si ingamba in terza corsia. Rimonta Newton Rock e Golfinger OM. Va a prendere nettamente la meglio. Si afferma davanti allo stesso Newton Rock numero otto. Che contiene Golfinger OM numero quattro. Pertanto due e otto quattro. L'arrivo ufficioso del Corsatrice. Quarto termina il tre. Magritte Dra. Quinto il dieci. Di Olaf Fatiere. Pertanto due e otto quattro. La tris. Due, otto, quattro, tre. Il quartè. Due, otto, quattro, tre. Dieci. Il quinte. Ovviamente ufficioso. L'ippodromo Paolo VI di Taranto. Si chiude con il successo di Naif Bip. La guida e il training di Federico Marangi. I colori del signor Vincenzo Parziale. I colori del principii朋友. Me la juntinan da media. E зрitore.